Fa molto caldo, ben trovati, prima il campionato, poi la notizia del Consiglio di Stato hanno praticamente annullato le notizie di calcio mercato, tra le quali però spicca questo acquisto dell'Inter, del Bayern di Monaco, o un altro Bayern, non lo so perché io non lo conosco nemmeno, questo certo Pavard che si aggregerà alla rosa della fallita di Milano. Naturalmente siamo qui per parlare di questo argomento molto particolare, di cui avremo modo di parlare anche nei prossimi giorni, perché avete visto tutti si sono buttati su questa notizia in maniera drastica, innanzitutto poi c'è una strana coincidenza, molto strana, che mi puzza, oggi 21 agosto apre il Consiglio di Stato, solitamente apre il 25-26, aperto il 21 agosto, guarda un po', segnale, sono sei anni oggi che è morto Guido Rossi, colui che ha assegnato lo scudetto all'Inter, ma guarda un po', proprio oggi hanno dato questa notizia, ma c'è ancora una situazione quasi strana, oggi è il compleanno di una delle scimmie, delle merde, anche se a me è un giocatore che mi piaceva, dei simboli di questa storia così nociva e vergognosa dell'Inter, cioè Materazzi, cioè guarda un po', il Consiglio di Stato si pronuncia il giorno dell'anniversario della morte di Guido Rossi che ha assegnato quello scudetto alla Juventus, ah, perdono all'Inter, alla Juventus gli scudetti gli riassegna il campo, non Guido Rossi, e Materazzi compie gli anni, non so quanti, non me ne strafotte proprio. Se questa non è una coincidenza meschina e precisa, ditemi voi cos'è, proprio oggi dovevano dare questa notizia. Stabilito oggi, il 21 agosto? Andiamo avanti. Chi ha vissuto come me gli anni di Carciopoli sa benissimo che il Consiglio di Stato non sarebbe entrato nel merito e non lo ha fatto, come il Tar e come le altre situazioni, cioè se ne lavano le mani e ritengono contraddittorialmente rispetto alle ultime vicissitudini del Tar che l'incompensa deve rimanere nelle mani della FIGC. Per cui prima Guido Rossi che lo ha assegnato, poi Pangalli che ha sorvolato, poi a Bete, addirittura io ricordo la vigilia di quella riunione del Consiglio federale dove si doveva decidere di togliere lo scudetto all'Inter ed era, ed era all'ordine del giorno. Ricordo la sera prima io di aver cenato, non vi dico il nome, con un amico, Juventino, Juventino per la pelle, politico che faceva parte del Consiglio, mi disse domani votiamo per la revocazione dello scudetto all'Inter, ma la sera prima, è fatta, il giorno dopo andarono lì e tutti decisero di non decidere, rimasero le cose come stavano. pensate, 2011. Detto questo vi faccio capire perché poi dopo, successivamente, anche gli altri organi non sono voluti entrare nel merito, perché dice doveva decidere la FIGC. Quando io vi parlavo sempre contro la FIGC, lo dicevo chiaramente, ma poi anche quando ha affermato oggi Zampini che questa vicenda la segue da vicino, perché Zampini di calcio non ne capisce, ma calciopoli l'ha seguita bene, come vedete io, quando devo fare delle critiche ad una persona gliele faccio, quando invece devo anche riconoscere delle situazioni positive, lo riconosco, perché è nel mio DNA fare così. Zampini scrive, su Consiglio di Stato, soliti noti tronfi per l'ennesimo ricorso che considera legittimo il tavolino. No, dice Zampini, ennesima sentenza di incompetenza barra difetto giurisdizione dal ritrovamento intercettazioni inter in poi non vi è mai stata una pronuncia nel merito in alcuna sede. e questo che dice Zampini, andatevelo a leggere su Facebook, è totalmente la verità, fotografa la situazione e come d'altra parte ha detto anche oggi Luciano Moggi, vediamo se riusciamo a riportare le sue dichiarazioni che sono ancora più precise. Perché poi? Come dicevo degli amici oggi che mi hanno telefonato e scritto questo del Consiglio di Stato, prima del TAR del Consiglio di Stato, è passaggio obbligatorio per andare in Europa. se no in Europa non ci si può andare. Lo bocceranno anche in Europa, questo è un atto amministrativo, questo non è uno scudetto del campo, questo è soltanto un atto amministrativo. quindi, giusto un attimo che trovo, ecco qui dovrebbe essere, no non c'è ancora comunque, non riesco a trovare le dichiarazioni di Moggi, vediamo se le trovo ancora, giusto un attimo, per essere più preciso, perché Moggi ha detto una cosa molto giusta oggi. Ecco qui. Dice Moggi, la sentenza del Consiglio di Stato me l'aspettavo, quando decidono di fare una cosa la portano avanti fino in fondo, bastava che i giudici avessero visto la puntata di report e si sarebbero resi conto di come sono andate le cose, visto il caldo di questi giorni chiudo la pratica e non aggiungo altro, comunque i miei ricorsi vanno avanti, aspetto la Corte Europea, è il TAR. L'ex direttore generale della Juventus commenta così la decisione del Consiglio di Stato di respingere il ricorso della Juventus contro la decisione del commissario straordinario della Federcalcio Guido Rossi, oggi fanno sette anni della morte, anzi sei anni, che nel 2006 aveva assegnato all'Inter lo scudetto vinto sul campo dalla squadra biancorera e rimasto vacante dopo le decisioni della giustizia sportiva per lo scandalo di Calciopoli. Se la Corte Europea, dice Moggi, accettasse la violazione dei diritti di difesa, si riaprirebbero tutti quei procedimenti che hanno portato a condanne sportive. Allora ci sarà da divertirsi, aggiunge l'ex grande direttore generale della Juventus. Quindi per chi dice che la partita è finita, si sbaglia, perché la partita non è affatto finita, anzi. Questa era una decisione che stavamo aspettando da tempo e eravamo certi che il Consiglio di Stato non sarebbe entrato nel merito di questa vicenda. Ci mancherebbe altro, saremmo meravigliati del contrario. Per cui senza modificare alcun'altra sentenza, oggi se si celebrasse il processo con tutte le prove acquisite dopo, prima sono state volutamente omesse, come ben sapete, intercettazioni, falò di dirigenti, ci sarebbe una sentenza diversa e quello che gli storici del calcio dovranno avere l'etica morale di trasmettere ai posteri non 37 o 38 scudetti. Nelle altre giustizie i codici, i processi, anche con Ergastoli, vengono rivisti. Nel calcio non conta, occorre avere un solo colpevole che è la Juventus. Il resto con nefandezze oggettive, vedi, le intercettazioni sono praticamente immuni da queste cose. Non vi è stato, fra l'altro, questo è importantissimo che si sappia, mai alcuna pronuncia sul merito. Prima perché la giustizia amministrativa, vi ho detto è un atto amministrativo, non entra nel merito di una questione, ma si pronuncia solo sulla legittimità di un procedimento. Secondo perché in questo caso non si è pronunciata nemmeno su questo, ma si è dichiarata addirittura incompetente, lasciando la questione alla sola giustizia sportiva. Questo è, cioè chi si aspettava, che il Consiglio di Stato entrasse nel merito, rimasto deluso, ma noi che seguiamo questa vicenda da tempo, sapevamo che il Consiglio di Stato, ce lo davamo già per scontato, quello di oggi. Non fa niente che poi i titoloni sono sempre gli stessi, io invece penso che oggi gli interisti possono andare a Piazza Duomo a festeggiare, l'esnesima volta uno scudetto vinto meritatamente come quello lì. Vedete, perché secondo voi l'Inter sta arrivando al fallimento? L'Inter sta arrivando al fallimento proprio per le bugie, l'arroganza, la falsità. Cioè qui in Calciopoli che hanno fatto? Hanno prima fatto gli imbrogli, l'oro, poi hanno intercettato, hanno estrapolato le intercettazioni dove non ci sono l'oro, fanno condannare la Juve e le altre, poi si scopre dalle intercettazioni che loro hanno imbrogliato, nessuna squadra prende l'illecito, l'Inter prende l'illecito ma è prescritto. Vi rendete conto di cosa hanno combinato? Questo tutto sul lato amministrativo. Sul campo hanno cercato anche di fare le furbate, come ad esempio i passaporti falsi, perché quello è una furbata, Oriali è un galeotto, è un avanzo di galera, è un delinquente matricolato, perché la sua condanna è passata in giudicato al terzo grado di giudizio, è un condannato per la legge, l'unico ad avere condanna. Non mi risulta che uno juventino ha avuto qualche condanna, portatevi le condanne al tribunale ordinario. Continuano a farla franca, continuano ad essere impuniti, ma come vedete il debito aumenta. Più si raccolgono sentenze, imbrogli, sotterfugi dell'Inter, più evidente, chiaro ed inequivocabile. Il debito aumenta, aumenta il debito e hanno un miliardo e trecento milioni di passivo che non si possono coprire, non possono fare la ricapitalizzazione. Già ad ora dovrebbero dichiarare fallimento, ma non lo fanno, hanno trovato la testa di legname, marotta, che copre tutto, soprattutto la Liga Calcio, poi la FIGC che non interviene. E allora la sentenza del Consiglio di Stato che non entra nel merito e si dice incompetente, rilancia, rimette tutto nelle mani della FIGC, di fatto. La FIGC che dovrebbe riaprire il fascicolo e dovrebbe fare chiarizza, ma non lo fa in maniera fraudolenta. figuratevi si vanno a riaprire, c'è l'Inter già fallita com'è, la buttano, la ammazzano dopo due minuti. Si riaprono questa avvertenza gravissima, perché nel momento in cui va riaperta la sentenza e quindi va riaperto anche il processo, la condanna è sicura, perché a quel punto la prescrizione salta. Ma nessuno si muove, perché non conviene a nessuno. Imbroglioni di Morati, di Tronchetti Provera, delinquenti. Oriali, un delinquente matricolato. Dispiace di parlare di Facchetti che non c'è più, pace all'anima sua. Io avrei voluto che Facchetti stesse bene e che continuasse a vedere la Juventus vincere. Ma è uno di quelli che ha barato più di tutti, perché si è prestato a un gioco nefasto. Pensate che Moratti si rimette da presidente dell'Inter il giorno in cui cominciano le intercettazioni. E lui quello di che? Cominciano le intercettazioni. Quel giorno si dimette Moratti e quando rientra Moratti nell'Inter al posto di Facchetti? Il giorno in cui finiscono le intercettazioni. Nove mesi. Andate a vedere questi atti. Andateli a vedere questi atti qua. Sono dei delinquenti, sono dei mascalzoni, sono dei ladri. Ma al di là dello scudetto uno può stare da parte da là. Cioè è un gioco il calcio. Ma quando loro sono mascalzoni e delinquenti. Vi sto dicendo solo una minima parte. Questi sono di una ferocia, cannibalesca. Pensate che ha fatto Tronchetti Provera. Soprattutto nella Feir Telecom Serbia. Cosa ha detto ieri? Cioè questi sapete come hanno aperto le indagini. Hanno fatto intercettare. Quindi hanno fatto spionaggio industriale. Poi hanno dato le carte a Guarinillo. Che ha archiviato. Poi le hanno date a Palamara. Ci ho parlato l'altro giorno con Palamara. E il 2 settembre verrà da Agropoli a presentare il suo libro. E ha detto Palamara a me. All'improvviso non ho avuto più l'inchiesta in mano a Roma. Perché lui aveva anche quella della Gea. E sono finiti a Napoli. Dove aveva Narducci e il colonne Lauricchio. E l'inchiesta finisce a Napoli. Perché finisce a Napoli? Dov'è la competenza territoriale di Napoli per giudicare Calciopoli? La vanno a trovare in un calcio scommesso di due anni prima e la giungono là. Non c'era competenza. Era incompetente per territorio Napoli. Fatti non successi a Napoli. Ha giudicato il Tribunale di Napoli. la procura napoletana. Un imbroglio gigantesco di cui non vi parlano. Ma di cosa stiamo a parlare? Questi sono delinquenti. Sono mascalzoni a tutti i livelli. Imbroglioni. Balamara disse mi hanno tolto di mano l'inchiesta. L'avrebbe archiviata. Già sapevano. E Napoli si è prestata. E Narducci disse piaccia o non piaccia. Ma perché Napoli era diventato il covo di Calciopoli. Trabaldini, Tronchetti Moratti, quindi Tronchetti Provera che aveva fatto intercettare. E danno l'intercessione a Torino che le spinge. A Palamara, a Roma. E glielo soffiono l'inchiesta sotto. Poi arrivano a Napoli dove quattro giudici napoletani perché poi nominano il superprocuratore Borrelli, napoletano anche lui. Narducci, napoletano. Palazzi, napoletano. Era tutto in gioco. Io ho scritto un libro su Calciopoli. Sapete che non riesco a pubblicarlo? Ce l'ho sul computer. Perché non te lo pubblicano. Perché vogliono i soldi da me, le case editrici. Perché devo versare i soldi? Ma poi come vedono l'argomento Calciopoli? Vi dico anche il titolo. No, no. Il titolo è Ieri, in moggi e domani. Un libro scritto da tempo. Non riesco a pubblicarlo. E questi fanno gli scimpanze, i vermi sui social. Devo parlare con me, devo parlare. Che conosco tutta la vicenda. Ma la conosco a fondo, la vicenda. Non così. Per il momento mi fermo qui. Il Consiglio di Stato era tappa obbligatoria per andare alla Corte di Giustizia europea. Ma è un atto che la Juventus deve fare e fa bene a farla. Io ho anche i miei dubbi se questa proprietà della Juventus vuole farla. Perché vi ricordo che quando gli umbertiani uscirono di scena nel 2006, il ricorso al TAR che avrebbe bloccato il campionato e avrebbe bloccato la Juventus dalla Serie B il 31 agosto del 2006, andatevi a vedere. Quel ricorso fu fatto bloccare da Montezemolo. Lo stesso che ordinò di dare all'Inter, Viera e Ibraimovic. Ma noi ci stiamo scherzando. Ma di cosa stiamo parlando? Starei qui a parlare per ore di quella vicenda grottesca, di quelle invenzioni. Altro che Consiglio di Stato. Andrebbero arrestati tutti per quello che hanno fatto. Ecco perché quando vi dico che la Juventus ha vinto 38 scudetti, più uno di Serie B, che io con onore esalto. È stato il campionato più bello, quello che abbiamo vinto, quello di Serie B. Il più bello. Poi un'altra volta vi spiego il perché. Sono orgoglioso di quel campionato vinto. Orgoglioso. Poi ne avevamo modo di parlarne. Poi voi punzecchiatemi pure, telefonatemi, scrivete email, come state facendo. E datemi le giuste, diciamo, tarature per andare avanti. Mi fermo qui. Vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube Sergio Vessicchio. Ad attivare la campanella delle notifiche. E mettere un like se lo ritenete opportuno. A mettere anche un commento se lo ritenete ancora più opportuno. Siate orgogliosi della Juventus. Siate orgogliosi. Perché è una squadra pulita. Non ha commesso nessun reato. Siate orgogliosi di essere bianconeri. Alla prossima. Alla prossima.